Sì, di nuovo insieme per la nostra rassegna stampa, proseguiamo allora con la lettura delle notizie principali di oggi, siamo sulla prima pagina del messaggero che mette in evidenza l'incubo nel cuore d'Italia, torna il terremoto, due scosse di grado 5.4 e 5.9 fra Perugia e Macerata, gravi i danni, panico ma soltanto feriti, paura anche a Roma, la protezione civile dice i soccorsi in tutte le zone, adesso avanti con la prevenzione, due violente scosse, crolli feriti e tanta paura, è tornato l'incubo terremoto nel centro dell'Italia, la terra ha tremato tra Perugia e Macerata, la prima volta alle 19.11 con una magnitudo 5.4, la seconda due ore dopo a quota 5.9, gravi danni a Ussita, Visso e Preci, gente in strada quasi ovunque tra Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, il sisma è stato avvertito distintamente anche a Roma dove molte persone hanno abbandonato le case, si registrano crolli di cornicioni e crepe nei palazzi, la protezione civile, soccorsi in tutte le zone, avanti adesso con la prevenzione. La nuova faglia dopo Amatrice, scrive Enzo Boschi, le scosse sono state sentite benissimo in molte parti d'Italia, dopo un sisma di magnitudo 6.0, l'esperienza insegna che c'è sempre da aspettarsene qualche altro di quelle entità, anche secondo regole ben collaudate. Una scossa più o meno della stessa entità si ebbe anche poche ore dopo il terremoto del 24 agosto e non sono da escludere onde decisamente più forti. L'urlo della terra sotto il temporale, scrive Italo Carmignani, inviato per il messaggero da Visso, proprio nell'epicentro di questo sisma. Gente in strada, anche a Roma, evacuata la Farnesina, un brivido scuote la serata dei romani, sta capitando a noi. E poi le altre questioni che troviamo sulla prima pagina del messaggero, le grandi opere, escort come tangenti, 30 arresti per gli appalti di TAV e A3, inchiesta nata dal filone mafia capitale, mazzette ed escort, appalti truccati e favori dal nord al sud Italia, un sistema diffuso che ha coinvolto alcune tra le maggiori aziende del nostro paese, sono 21 le ordinanze di custodia cautelare eseguite ieri dai carabinieri di Roma. Fisco, caccia in banca allevasori con pignoramenti mirati nei conti, la riscossione con l'incrocio dati, il rischio aumento dell'IVA nel 2018, il nuovo ente della riscossione andrà a caccia di gettito nei conti correnti. Grazie ai pignoramenti più mirati, resi possibili dalle banche dati, il governo conta su maggiori entrate per mezzo miliardo l'anno. Intanto torna il rischio di aumento dell'IVA, aliquote del 10 e del 22% incrementate di tre punti dal gennaio 2018 e quella massima di un ulteriore 0,9 dal 2019, clausola di salvaguardia sotto forma di aumento di accise e tagli di spesa. Rifiuti il complotto dei frigoriferi a Roma, blissi di Grillo dalla Raggi dopo lo scivolone e il sindaco sapeva dello stop alla raccolta, una questione di cui ci occuperemo sicuramente più tardi, mentre andiamo a vedere in dettaglio basso lo schiaffo capitale, il colpo di spugna sui vigili malati solo a capodanno. Scrive Oscar Giannino per chiarità, come sempre, massimo rispetto della magistratura e delle sue sentenze, ma questo non impedisce di dire, in attesa di conoscere le motivazioni delle decisioni assunte dal giudice del lavoro della terza sessione del Tribunale di Roma, che è devastante il segnale arrivato ieri all'opinione pubblica ai dipendenti del Campidoglio e nel generale a tutti i dipendenti pubblici italiani, visto che Roma è la capitale. Passiamo adesso dal messaggero alla prima pagina del tempo, che titola ancora sul terremoto, il titolo è Che botta con una raffigurazione della penisola italiana e i cerchi concentrici che indicano il sisma. Dopo Amatrice il sisma concede il bis, tra Marche ed Umbria scosse sentite in tutta Italia, Crolli e Feriti, il sindaco di Ussita, l'apocalisse, questo è il suo commento, paura a Roma, interi quartieri in strada. Una ferita che arriva dal maledetto agosto e non è ancora finita. Altri titoli che troviamo in taglio basso sul tempo, c'è stato il turno di campionato di Serie A di calcio, la Lazio schianta il Cagliari 4 a 1, doppietta di Geco per la Roma, Roma seconda da sola. E poi i migranti, basta voucher solo soldi, no alla moschea e nella palestra rivolta nella periferia di Roma. Soldi, favori ed escort, altra cricca sulle grandi opere, la questione di cui abbiamo ampiamente parlato e poi 16 anni per far volare la nuvola di Fucsas tra due giorni, l'apertura. Andiamo adesso a leggere un altro quotidiano, parliamo della verità con i titoli principali in prima pagina, la verità titola la gente assediata dai ladri usa Facebook per difendersi. Ormai sui social dilagano i gruppi di autoaiuto per proteggere le case, ma bisogna stare attenti a quello che si scrive, c'è il rischio di querele, i consigli della vittima con il record di incursioni, 28 casi. Sui social network si moltiplicano chat e gruppi di cittadini che controllano il territorio segnalano alle forze dell'ordine auto e persone sospette per difendersi da furti in casa e rapine. Il fenomeno è nato a Ravenna nel 2014 e in meno di due anni si è diffuso in tutta Italia, tanto che è nata un'app con 3.000 iscritti che permette di creare una comunità geolocalizzata in cui scambiarsi informazioni sui crimini in tempo reale. Alcune associazioni organizzano anche incontri con avvocati per evitare che i membri abbiano problemi legali per violazione della privacy, i consigli di Lorenzo Danieli, 48 anni, veneto, vittima di 28 tentativi di intrusione, spendere per il sistema d'allarme e le luci esterne, comprare un cane da guardia, cercare di non usare armi e soprattutto non abbattersi perché non devono vincere loro. Altri titoli sulla verità, il pezzo di Belpietro, pensate prima agli italiani o andate a casa, questione immigrati, poi troviamo l'altro pezzo di Marcello Veneziani, anche i popoli hanno un'anima e va protetta su scontri di civiltà. Parla il procuratore di Vicenza, è vero su Zonin e BPV, magistratura tiepida, però per anni ai soci è andato bene tutto, sentenza poi a Roma, malati tutti insieme, parliamo di 767 vigili a Capodanno, per i giudici, una coincidenza. E poi per controvento Luca Telese scrive, lo stafilococco stella del talk show, il pezzo appunto di Telese in taglio basso, troviamo tangenti per l'alta velocità mai realizzata, indagato il figlio dell'ex ragioniere dello Stato, non mi ricordo in che materia sono laureato, ma parlo quattro lingue, questo è il pezzo che troviamo sulla prima pagina della Verità e andiamo adesso invece sul web per altre notizie che troviamo su ansa.it, possiamo andare appunto sul portale per leggere di un sequestro di 385 kg di cocaina da parte della guardia di finanza a Reggio Calabria, quindi sono stati sequestrati dai finanziari del comando provinciale di Reggio Calabria, del comando operativo aeronavale di pratica di mare e dei reparti aeronavali di Vibo Valencia e Palermo, che hanno anche sottoposto a fermo 9 componenti, l'equipaggio della nave porta container che è proveniente dal Brasile, era diretta al porto di Gioia Tauro con la droga. A bordo, le indagini coordinate dalle procure di Reggio e Palmi, condotte dal gruppo operativo antideroga della finanza di Reggio, con l'apporto della direzione centrale per i servizi antideroga, hanno permesso di accertare che il trasporto è avvenuto con la compiacenza di alcuni membri dell'equipaggio che hanno scaricato la cocaina. Andiamo a leggere adesso invece un'altra notizia, è morto Luciano Rispoli, un conduttore molto noto, ideatore di storici programmi televisivi. Morto ieri sera a 84 anni, Luciano Rispoli, conduttore di programmi storici come Parola Mia e Terpeto Volante, lo annuncia il giornalista e scrittore Mariano Sabatini, a lungo suo collaboratore. Era nato a Reggio Calabria nel 1932 e è mancato ieri sera sul tardi nella sua casa di Casal Palocco a Roma. Con grandissima costernazione, l'accordo con la moglie e i figli, devo dare la triste notizia della scomparsa del popolare giornalista, autore e conduttore di programmi Celebermi, Parola Mia e Terpeto Volante su tutti. Questa è la nota di Sabatini. E adesso una piccola pausa per noi, dopo ci occuperemo in particolare di Roma e dintorni. Grazie a tutti.